e no, qua io, solo qua posso fare Tutto l'ho scusata di dove si fa sempre Ma tu sei la cosa? Mi che figa? Mi stanno bene e tu sei la coda Non ho bene Sembra una coda Sì, sembra una coda Non coda Franco mi sembri un basso mafioso L'operazione dei tempi è proprio per permettere ai fedeli di imparare le vicende riguardanti le divinità E guardate che la cosa avviene anche... Chi è bello? Sono le belle signore che abbiamo qui e le sono le belle tolle Le belle tolle non sono le bestenze Ma non si può Venga, venga Chi è che si è il tempo di maniare? Beh, poi si prende Si, si può uscire? Si, si può uscire due anni di cose Tutta la compagnia Sì, si può uscire un contrasto totale Vedi? Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì 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 Sì